Ad Agrigento il Palacongressi rientra nella disponibilità delle comune. Piano di vendita o affitto del patrimonio comunale per rimpinguare le casse. Gero Micichè. Ad Agrigento il Palacongressi rientra nelle mani del comune. La struttura, in condizioni di degrado e abbandono al villaggio Mosè, è riassunta nella gestione ad opera del municipio, così come è sempre stato nel corso degli anni, fin quando è stata chiusa nel settembre 2012. La Regione decise di vendere il Palacongressi inserendolo in un'apposita lista del patrimonio regionale in vendita per ottenere liquidità in cassa. Non vi sono state però delle offerte adeguate, probabilmente perché l'edificio è stato ritenuto poco appetibile dagli acquirenti privati. Durante il commissariamento ad Agrigento di Luciana Giammanco è stata avviata con la Regione un'interlocuzione per consegnare il bene dal demanio, quindi dal comune, all'assessorato regionale ai beni culturali, affinché potesse poi contare su introiti diretti, come ad esempio quelli provenienti dal parco archeologico della Valle dei Templi. La Regione ha avviato tale trasferimento e tra febbraio e marzo del 2015 ha comunicato al comune di Agrigento che si sarebbe dovuto attivare per prepararsi alla redazione del verbale di consegna del Palacongressi all'assessorato ai beni culturali. Nel frattempo però ad Agrigento è iniziata la campagna elettorale primaverile fino al voto di fine maggio e il procedimento si è arenato. Dunque adesso il sindaco Firetto ha subito isposto la negazione della consegna. L'assessorato ai beni culturali non si è opposto e di conseguenza il Palacongressi è stato mantenuto in uso al comune. Lo stesso Firetto commenta in prospettiva stiamo ragionando con l'assessorato regionale all'economia su possibili forme di utilizzazione del bene perché di certo non è nostra intenzione tenerlo in uso in modo improduttivo. E con gli stessi intenti produttivi l'amministrazione comunale volge attenzione verso il patrimonio del comune da anni fonte più di debiti che di guadagni. Al momento, spiega l'assessore al bilancio Giovanni Amico il nostro patrimonio non solo è improduttivo ma anche gravido di costi e contenziosi. Una cospicua somma è spesa ogni anno per manutenzioni e cause legali connessi a crolli e danneggiamenti provocati da edifici comunali ormai in abbandono. Esiste un piano di acquisizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare improduttivo statale al quale vogliamo tentare di aderire. Questo libererebbe l'ente di beni attualmente inutilizzati e privi di prospettive di sfruttamento e darebbe un'iniezione indispensabile di liquidità.